E la figlia di Ciarcialle è riminuta dall'America, si l'ha messa e la sciammerga, e lo cuapella all'Ariola. Com'agli a fa' nelle puzze armandine, e gli le tinghi una cosa che ha semplici, ha semplici a lui parlà. Com'agli a fa' nelle puzze armandine, e gli le tinghi una cosa che ha semplici, ha semplici a lui parlà. Carissimi amici, un saluto da Pino Iubatti. Comincio il discorso su questa puntata perché lo ritengo un pochino austero e d'altra parte il personaggio lo reclama. In altre parole, insomma, il 3 giugno del 2015, mi va di aggiungere, è caduto niente meno che il centenario della nascita di un grande vastese. Sto parlando di Don Salvatore Pepe, una delle persone più colte della nostra cittadina. sulle attribuzioni, sui meriti, ma diciamo pure su una ampia esposizione biografica, vorrei essere distante, anche perché in maniera un po' amara sembra che questa ricorrenza sia passata quasi inosservata. ringrazio ovviamente chi ha voluto darne indicazione qualche volta anche su suggerimenti abbastanza discreti, ma sintetizzando il mio intervento, l'intervento di questo video, attorno a certi caratteri che ovviamente non sarebbero stati troppo graditi dal nostro festeggiato. In altre parole, ho parlato di cultura. Don Salvatore Pepe con questa parola era fortemente imparentato, ma è chiaro che si tratta di un sostantivo piuttosto di impegno e allora potrebbe essere altrettanto facile, soprattutto per chi vi sta parlando, uscire dal seminato. In altre parole, in coerenza assoluta con lo spirito della nostra trasmissione, lo spirito di TRSP, mi va di nominare anche l'editore, il carissimo Don Stellerino D'Anniballe, è il caso di ricordare Don Salvatore in maniera piuttosto puntuale. Ripeto ancora che non intendo assolutamente dilungarmi, d'altra parte conoscete la durata di questa emissione, attorno a certi impegnativi aspetti che sono di squisita pertinenza di studiosi del campo. Non facciamo confusione, non arruffiamo poi tanto materiale in maniera da poter essere soltanto dispersivi credendo di dare un'immagine piuttosto ricca della persona commemorata. Io vorrei parlare, vorrei partire dal Don Salvatore Popolare. Lasciamo perdere l'omiletico d'eccezione, lasciamo perdere la grande, importantissima presenza durante il quaresimale di San Petronio a Bologna negli anni andati, addirittura citando persino espatri piuttosto generosi e anche qua si potrebbe parlare in chiave di familiarità, ma me ne astengo e lo dico a chiare lettere. La regia vi mette sotto gli occhi una mia memoria che comincia con una frase tutta washtareul. Attenzione, qua stiamo parlando di uno studioso profondo della nostra lingua e qua il minimo delle citazioni che mi spetta è quella di dire che si trattò di un pedagogo di impegno piuttosto grande, soprattutto sotto gli aspetti scolastici. ritornando al dialetto è chiaro che non possiamo parlare di chi si arrabbatta a produrre grande quantità di materiale che si può definire dialettale soltanto per le intenzioni, niente affatto adeguate di chi si avvicina non da studioso ma semplicemente da appassionato. E qua chiudo il discorso perché altrimenti dovrei parlare in maniera molto critica e anche qua ripeto la frase di chiusura, me ne astengo, a buon intenditor poche parole. Dunque, Peure la pezzendarei, Vole sfocuse è una frase di Don Salvatore Pepe che fra l'altro ho riportato anche sul manuale di conversazione vastese. Ognuno può andare a leggersi queste poche righe e per chi ama queste cose e che può seguire direttamente le righe stesse che la regia gentilmente metterà a sua disposizione, in cui dico a merito intero di Don Salvatore Pepe va questa quasi dissacratoria citazione. Durante una indimenticabile omilia, una meravigliosa delle sue, sotto forma di commento al frastuono assordante di certuni festivi fuochi d'artificio, stiamo parlando della chiesa di San Pietro dei tempi andati, in prossimità appunto di quella bella chiesa, con altero distacco sentenziò Peure la pezzendarei, Vole sfocuse è e qua lo sforzo linguistico foneticamente impegnativo della pronuncia della frase in dialetto autenticamente vastese si fa sentire, e cioè pure la pezzenteria vuole il suo sfogo. Questo suggestivo aneddoto ha divertito molto il nostro più illustre lettore, cari amici, e cioè il segretario di Papa Giovanni XXIII, non è una scoperta, ed ex arcivescovo di Chieti e Vasto, scrivevo allora nel 2009, Loris Francesco Capovilla, che nel frattempo, quasi centenario, sapete che è divenuto cardinale, che non conosceva questi divertiti risvolti della colta personalità di Don Salvatore. Anzi, per la paterna amicizia che ha voluto benignamente concedere a chi vi sta parlando, grazie al sodalizio con il nostro amatissimo edotto Don Salvatore, mi ha voluto gratificare di un divertente incontro dialettale tra lui, veneziano, e l'indimenticato Don Giovanni Renzetti Lancianese in quel di Torino di Sangro, un aneddoto parallelo a quello di Don Salvatore, che cosa ha voluto raccontarmi Monsignor Capovilla. Anche qua le immagini a disposizione della regia completano il discorso. Si era nei pieni anni Sessanta, nella sacrale occasione di una elevata novena di Natale presso la bella chiesa dedicata alla Madonna di Loreto in Torino di Sangro, Don Giovanni volle manifestare all'illustre pastore ospite una sua impellente e all'apparenza insormontabile preoccupazione. Quegli umili abitanti, quasi tutti i contadini, non avrebbero mai risposto in italiano alle sue pastorali invocazioni, bensì in quel loro modesto dialetto locale. Ebbene Monsignor Capovilla spazzovia subitaneamente quelle angustie, aggiungendo con grazia, vorrà dire che a quel punto io mi esprimerò in perfetto veneziano. Ilarità è il caso di citare, ma tornando a Don Salvatore Pepe e sfiorando quasi questa atmosfera, ho visto che è andata in circolo la caricatura di Don Salvatore che avevo prodotto molti anni addietro senza un commento e qua la cosa non può assolutamente sussistere perché è necessario che attraverso qualche povera didascalia tutte le immagini si completino in maniera esauriente per il semplice motivo che dietro una iniziativa del genere c'è sempre un significato piuttosto fecondo. Ebbene dovete sapere che Don Salvatore al momento in cui vide la bella caricatura niente meno che di Papa Giovanni XXIII che io ho inserito nel fascicolo dedicato a lui quando ahimè era già prigioniero di se stesso in quel lontano ricovero di Butianico dove ha chiuso gli occhi definitivamente nel 1997 aveva desiderato quasi leggero desiderio di vanità anche perché tutti quanti ricordano che era l'epoca in cui circolava un calendario Iacovitti nel quale figuravano le migliori personalità cittadine raggruppate per categoria e qua possiamo sciorrinare almeno di un calendario annuale di quelli citati di quella serie le personalità che gli facevano o che gli avrebbero fatto compagnia in quel contesto ebbene al momento in cui Don Salvatore si vide arrivare la caricatura fece un grande parallelo degno soltanto di un uomo di cultura della sua portata ma questo non è certamente Giovanni XXIII e il discorso si chiuse in maniera delicatamente amorevole nei confronti del pontefice scomparso nel 1963 attraverso le immagini potete ricapitolare dunque sotto forma di suggerimento per chi vuole dare un'immagine dei personaggi che si intrattengono attraverso le immagini le mute immagini che debbono sempre essere completate non soltanto da una breve, nel migliore dei casi, una breve didascalia altrimenti si perdono nel marasma generalizzato di quei grandi magazzini i grandi magazzini che oramai straripano di tutti i tipi il velato riferimento al web non lo prendete come sarcastico perché non c'entra affatto quello che c'entra è che invece si può sempre realizzare attraverso approssimative e iniziative che non hanno certo il valore di commemorare personaggi come quello che abbiamo trattato questa sera Don Salvatore Pepe grazie a tutti quanti e alla prossima occasione E le femmine con amore fanno le penne senza sapone sciuvano niente e sciuvano le rete sbattano il culo sopra le prete e come agli affa niente puzza ramandine e gliele tinghe una cosa che si impicce che si impiccia lo parla e come agli affa niente puzza ramandine e gliele tinghe una cosa che si impiccia che si impiccia lo parla mi non ha cattato che si impiccia lo parla